Buongiorno a tutti, mi ha messo un po' d'ansia questa cosa del microfono, anche a me ovviamente. Noi l'abbiamo fatta per istruirvi e lavorare meglio, ci dite che vi facciamo venire l'ansia? Un pochino sì, perché poi il microfono non l'ho mai vissuto con molta disinvoltura. Grazie, siete molto incoraggianti. Allora, io vi parlerò di una cosa un po' particolare, cioè di un modo particolare di essere freelance, che è questo, quando si ricoprono dei ruoli di responsabilità all'interno di aziende, rimanendo però dei freelance. Attenzione perché non sto parlando delle finte partite IVA, non sto parlando di situazioni particolari, sto parlando proprio di persone che lavorano appunto come freelance e che quindi lavorano come consulenti, ma all'interno di un'organizzazione ricoprono un qualche tipo di ruolo. Questa è la situazione nella quale mi trovo ovviamente ed è per questo che posso parlarvene. Vi spiego velocemente. Il 70, forse anche un po' di più, per cento del mio fatturato proviene da una collaborazione che ho con un'agenzia, un'agenzia creativa, nella quale io dirigo un piccolo reparto. Piccolo perché in questo momento siamo in tre, diventeremo in sei nel giro di pochissimo. Anzi, sto cercando uno strategista, un social media manager, se vi interessa, poi passate da me perché ne ho bisogno come l'area. Questa era la call to action. Esatto, questa è la call to action. C'è proprio bisogno, però li devo assumere. Io però non sono assunta. Non perché il capo di questa agenzia abbia voluto fare il furbo, ma perché io ho chiesto di non essere assunta. in un colloquio un po' surreale, che è quello in cui appunto lui mi faceva l'offerta, ed è quello a cui io sono arrivata perché avevo avuto un anno tremendo in cui non sono stata pagata per sei mesi per un lavoro gigantesco che avevo fatto, in cui avevo anche anticipato un sacco di spese, e quindi poi alla fine avevo detto ok, basta, mi faccio assumere. Quindi avevo mandato qualche curriculum in giro, alla fine era saltata fuori questa cosa che era molto bella, era una bella sfida, una cosa divertente, e a un certo punto il direttore generale con cui facevo l'ultimo colloquio mi diceva bene, allora sono contento, la mia offerta è... Io in quel momento mi sono estraniata da me stessa, e mi sono sentita dire no, guarda, facciamo o no un'assunzione, facciamo un contratto di consulenza. E lui, suo malgrado, ha accettato, nel senso che lui non è d'accordo. Non è d'accordo perché lui mi vorrebbe per tutto il tempo, per lui è importante che io sia lì proprio tutti i giorni, mentre io da contratto sono lì tre giorni alla settimana. Poi non è vero, poi in realtà ci sono quasi sempre. Siccome questa cosa però è particolare, come vi dicevo, io appunto ho un team da coordinare, chiaramente non è la stessa cosa se sono interna o se invece sono esterna, come mi capita di essere. Ovviamente questo intervento va nella direzione indicata da Enrico Marchetto, che non vedo, è fuori, benissimo. Perché è chiaro che è proprio un caso di metapensiero sull'essere freelance, e vabbè, insomma, io l'ho fatto lo stesso perché mi sembrava una cosa interessante. Una cosa, c'è qualcuno tra di voi che ha una situazione simile? E ce ne sono un sacco. Ok, allora io non ho ricette, perché è impossibile, credo che poi ognuno si faccia la sua. Però volevo sollevare la questione, magari sentire anche voi cosa ne pensate, perché mi sembra utile scambiarsi un po' di idee su una cosa così, che è così particolare. Prima di tutto, un freelance puro è un'azienda, nel senso che è uno che si cerca i clienti, è uno che si cerca il personale, è uno che si gestisce anche l'amministrazione, e poi, come ultima parte, c'è quella della produzione del lavoro. Quindi, un'azienda dall'inizio alla fine. Ma, nel momento in cui però si trova all'interno di un'azienda, diventa, come dire, il protagonista solo dell'ultima parte del suo essere freelance, e cioè della produzione, perché a quel punto da lui ci si aspettano dei risultati, ci si aspettano delle cose. Quindi smette di essere un'azienda, e questa è la parte più difficile da digerire. Perché comunque una persona che è freelance ha fatto una scelta, che è stata quella di decidere anche, banalmente, per quali clienti lavorare. Ma, se lavoriamo all'interno di un'altra azienda, sarà l'azienda a scegliere clienti per noi. La parte più difficile è per diversi motivi. Ecco. Per esempio, che ho un capo, e spesso non vado d'accordo con lui, nel mio essere freelance, azienda, chiaramente questo problema. Non ce l'ho mai, ho dei clienti, devo fare i conti con i clienti, ma lì io devo fare i conti col capo, e poi anche con i clienti, che sono i clienti del mio capo. Il fatto di essere esterna, però, mi dà un po' di libertà di movimento in più, nel senso che lui sa di avermi preso, non per dirgli sempre di sì. Quindi io mi posso prendere la libertà di dirgli, non sono d'accordo con te. Senza esagerare, perché poi se no mi dice, va bene, allora ciao. Ovviamente. Non posso lavorare da casa, perché, come vi dicevo, lui voleva assumermi, perché voleva che io fossi lì, tutto il tempo. E quindi lavorare da casa è una cosa che lo destabilizza molto. Oltretutto il lavoro in azienda, spesso, io parlo dell'agenzia, ma comunque così anche in molte aziende, è fatto in modo tale da richiedere proprio la presenza, perché le cose vengono fuori in maniera totalmente inaspettata e difficilmente programmabile. Quindi io posso programmare il mio calendario, quindi le volte in cui dovrò fare delle cose altrove, anche su tre mesi. Però il problema è che banalmente giovedì, anzi mercoledì sera, mi sono arrivati due brief per due strategie che ho dovuto fare giovedì in un giorno. Ovviamente una aveva un senso, l'altra molto meno. Me la smazzerò lunedì all'alba, però va bene. Però le cose in agenzia capitano così. Devo incastrare tutti gli impegni, perché comunque una cosa del genere non mi consente di fare un fatturato totale globale e soddisfacente, quindi comunque devo metterci dentro qualcos'altro. Io ho un altro impegno fisso, che è quello che diciamo è il principale responsabile di questa situazione un po' strana, perché dirigo un master in un istituto di formazione. e quest'impegno è molto più gravoso di quello che mi aspettavo all'inizio, quindi comunque mi prende tanto tempo. E niente, fra questo, quello e qualche altro lavoretto che ogni tanto viene fuori, insomma, è bello complicato mettere insieme tutte queste cose. Non ho il tempo di fare new business per me, dall'altra parte però posso essere buttata fuori in qualunque momento. Questa è proprio la spada di Damocle. Faccio il capo, come vi dicevo, ho un team da coordinare, ma non posso firmare le ferie delle persone che coordino, almeno formalmente. Io firmo un foglietto che serve soltanto per presa visione, serve soltanto per dire ok, a me va bene che tu quel giorno non ci sia, dopodiché però legalmente io non ho... quella cosa di manco la dovrei fare, mettiamola così. e infine lavoro con i millennials. Questo per me è una cosa molto molto complicata. Ne vedo un sacco di millennials qui dentro. Millennials è un brand ed è la cosa che vi aiuta. ma se provenite da una generazione diversa, che non è neanche quella dei vostri genitori, vi garantisco che è proprio complicato. il fatto di non essere più un'azienda, di avere un'azienda che ci accoglie, è però anche la parte più rassicurante, perché ovviamente abbiamo un sacco di vantaggi. quelli che ho contato io sono questi. Ho un'entrata fissa, anche in agosto, è una cosa bellissima. Per me il 10 di ogni mese è il giorno più bello, perché mi arriva il bonifico. E arriva sempre. Non la tredicesima, quattordicesima, ma quelli sono dettagli. Voglio dire, in altre condizioni ho avuto tipo zero bonifici per due mesi, tre mesi, sei mesi in quel periodo particolarmente complicato. posso, anzi devo, delegare delle cose e però le cose vanno avanti lo stesso. Questa è una magia, per chi lavora da solo, questa è una magia. Cioè se io non ci sono a fare una cosa, quella cosa non sarà mai fatta. Non è vero, se io non ci sono, io posso darla da fare a qualcun'altra. In alcune situazioni gliela devo proprio dare. Quindi è una cosa veramente che ti può sollevare molto e cambiare la vita. Secondo me questo telecomando ha le pile un po' scariche. Ok. Ho una socialità. Altro tema. Il freelance che lavora da solo è solo nella sua stanza e lui se la canta, lui se la suona. Se non fa una Skype call può arrivare a sera senza aver scambiato una parola con anima viva. Questo, sì, magari non ti disturba tanto, però insomma alla lunga ci sono giornate pesanti, diciamo. Questo ovviamente non succede se invece lavoriamo da qualche parte. Questo è un tema importante. Allora io posso difendere i freelance che lavorano per l'agenzia. se millennials è un brand, freelance non è un brand o perlomeno non è percepito come tale. Che cosa succede? Succede che all'interno dell'agenzia il vissuto dei freelance è pessimo. I freelance sono carne da cannone, sono persone da sfruttare, da pagare il meno possibile e questo è totalmente indipendente dal loro livello di professionalità, da quanto sono bravi e da come mettono le cose. Ahimè, per l'agenzia fuori uno dentro un altro. Non c'è proprio nessuna differenza. Cioè si fa molta fatica a percepire la differenza e il tema è semplicemente tirare il più possibile sul prezzo di quello che fanno e pagare il più tardi possibile. Ci sono agenzie, per fortuna la mia non è così perché ci sono io che sono con un martello su questo tema, ci sono agenzie che hanno una polis interna che dice che i freelance non vanno pagati finché non sono loro a sollecitare. Scusa? Questa è tutta l'amministrazione dell'azienda? Non è vero, non è vero. No, ci sono anche quelli che sono più tranquilli, però ce ne sono... No, no, ma le polisi interne sono che quando non arriva il pagamento alla scadenza parte il primo sollecito. Cioè ci sono le aziende che pagano tardi, però ci sono anche i freelance che non seguono i consigli che gli diamo da sette anni. Cioè organizzatevi e rompete le scatole ai pagatori ritardatari. Non lavoro da casa, è l'altra faccia della medaglia, è vero che non posso lavorare da casa, però appunto lavorare a casa ha una serie di risvolti che non sempre sono fantastici e quindi ok. Sono costretta ad aggiornarmi e per esempio devo sapere che cosa significa eschietit, voi lo sapete? Eh, vedi, è una contrazione di let's get it ed è una cosa tipica dei trapper, ma non di tutti, attenzione, di un certo settore che adesso poi quello così nel tecnico non riesco ad andare. Però è uno giovane per intenderci, molto giovane. Eh, e per esempio io so che cosa significa fa brutto, voi lo sapete? Lo sapete? Ok, benissimo. Quelli giovani lo sanno, anche tu? Non l'ho mai voluto sentire a confidere. No, niente, significa che spacca e basta. Eh, però. Ora, che cosa succede quando si lavora così? Succede di fatto che l'organizzazione per la quale lavori diventa la tua organizzazione e diventa un posto in cui in qualche modo ti devi riconoscere, perché se non ti riconosci non ce la fai, proprio non ce la fai da andare avanti. E adesso vi racconto un po' di cose che ho imparato. Ho imparato che questa situazione non è una comfort zone. Io credo che le comfort zone non esistano proprio, cioè che siano proprio un'invenzione. Perché? Credo che non lo sia neanche il freelance camp. Perché ogni anno comunque tu devi pensare qualcosa di diverso. E questo vale anche per quando abbiamo una situazione così, che appunto almeno dal punto di vista del direttore della nostra banca è fantastica. Però la verità è che devi far fronte ad una serie di cose che sono abbastanza così, volatili. Una situazione così però è da accettare solo se non ci sono alternative. Io non ho percepito un'alternativa, nel senso che farmi assumere non era un'alternativa per me percorribile. Io ho un altro impegno, da un'altra parte al quale tengo molto. E le due cose insieme non ci potevano proprio stare. Ovviamente io tornerò all'attacco su questa cosa e ci riproverò perché mi aspetto che lunedì il mio capo mi dica senti, visto che stiamo facendo tutti questi colloqui, di nuovo la CTA, non è che adesso ti liberi di quell'altra roba e stai qui tutto il tempo e io gli dirò presumibilmente di nuovo di no, forse. Però in qualche modo bisogna trovare un modo e questo modo non è facile, è una cosa sulla quale ci si lavora tanto. È importante però essere molto chiari sui termini dell'impegno e non derogare. Per cui se c'è bisogno io invece di tre giorni ci vado quattro, ci vado spesso anche cinque. Spesso in un giorno faccio su e giù tra l'agenzia e la scuola, che significa un'ora di metropolitana per andare, un'ora per tornare. Però lo faccio, lo faccio perché lo voglio fare, ma è importante per me che il mio capo sappia sempre che però i termini dell'impegno sono diversi. Io sto qua tre giorni, quindi tu non puoi esagerare. Conosco dei colleghi che hanno situazioni simili, che sono molto più bravi di me, nel senso che proprio quando non ci sono, non sono neanche reperibili. E questo è molto bello. Far percepire il valore delle altre cose che si fanno. Se riesco a far percepire in agenzia quanto abbia senso e quanto porti valore, il fatto di lavorare anche nella scuola, questa cosa aumenta il valore di quello che faccio in agenzia. Nello stesso tempo, di là, nella scuola, il fatto di lavorare in agenzia aumenta il valore di quello che posso passare e trasmettere ai miei studenti. Quindi sono comunque delle cose che si devono parlare. Più si parlano, è meglio è. I colleghi non ti capiranno mai. Quindi nel mio caso, quelli dell'agenzia proprio non gliene frega assolutamente niente. del fatto che io ho delle cose di là, del fatto che possa portare delle cose diverse, eccetera, eccetera. E quindi niente, non ci aspettiamo che possano capire perché tanto non capiscono. Però è importantissimo aderire alla visione dell'azienda. Perché io ci ho messo due anni per ragionare questa cosa, però ho capito che o aderisci veramente e quindi diventa la tua, diventa il tuo spogliatoio, oppure meglio mollare il colpo perché altrimenti diventa una sofferenza pazzesca. Quindi la domanda che mi faccio, che vi giro è ma essere un freelance è diverso da fare il freelance? Forse sì. Forse tutto sommato sì. In questo momento io sono un freelance ma non faccio veramente il freelance. E quindi, secondo me, tutto si può riassumere in questi due hashtag free the freelance o fatti assumere. Grazie. Come è essere un capo che però non è il capo? Cioè, nel rapporto diretto con le persone che gestisci? Questa era la mia curiosità. Cioè, cose più, meno, come ti vedono, eccetera. Loro vedono il capo. Alcuni di loro non sanno neanche che tipo di contratto ho. E se questa cosa non emerge in maniera... Cioè, poi a volte la faccio emergere io, nel senso che quando a un certo punto... Esatto. Cioè, quando arriva il momento in cui io non ci sono, gli dico ci vediamo martedì. Poi dopo a un certo punto glielo spiego. Però in realtà non c'è una vera differenza in questo. Non sono le persone che richiedono questo tipo di cosa. E per i clienti? E per i clienti io sono un'interna. Ai clienti questa cosa è totalmente sconosciuta. Oltura. Sì. Bene. Bene. Grazie Giuliana. Grazie. Grazie.